Siamo al 16 marzo 2023 e questa è l'antica usanza di bruciare la vecchia. Cos'è bruciare la vecchia? Bruciare la vecchia è metà quaresima e viene festeggiata qua nel Bresciano per metà quaresima, ma in tutta Italia viene festeggiata in altri momenti. Ricordiamo Bologna o Modena per l'ultimo dell'anno, ricordiamo di un paese idro al 15 di agosto, ma bruciare la vecchia qua a Brescia ha un significato che adesso vi andremo a spiegare. Prima cosa bisogna mettere la vecchia in lapidera e poi far partire il fuoco. Credenza che ne facciamo vedere in scala 1 a 24, vedete c'è la vecchia che viene messa con la legna intorno per far partire il fuoco, ma la vecchia cos'è? Questa leggenda, quella nel Bresciano, narra che la vecchia è la più vecchia del villaggio e lei praticamente ha una culla nel corpo con dentro un bambino. Da qui lei parte, va nel campo, in un campo incolto e va per morire lì e la gente del paese la brucia per liberare tutti i malanni, perché lei viene usata come capra espiatorio per bruciare tutti i brutti pensieri. Ma questo in alcuni punti, ad esempio per parlare di ospitaletto, castegnato e anche manerbio, gli fanno prima un processo e poi la bruciano. In varie parti, come ho detto, d'Italia ci sono vari posti, varie date per poterla bruciare. Qui in Bresciano fondamentalmente è a metà cuaresima, perché bisogna anche dire che è un vecchio scamontage dei nostri vecchi per poter tagliare a metà il digiuno della cuaresima e poter avere un pretesto per poter mangiare qualcosa o divertirsi. Questo è la cosa della vecchia che molto probabilmente, anzi senza molto probabilmente, si può fare salire ai greci, ai romani, quando festeggiavano, quando bruciavano un vero guerriero, quando iniziava la primavera. Questo è il bruciare la vecchia nel Bresciano e noi lo faremo nel nostro piccolo con questo piccolo video per potervelo aiutare, speriamo di essere stati utili. Ciao a tutti! Il bruciare la vecchia voleva dire bruciare tutti i cattivi pensieri dell'anno passato. Ecco a voi che sta bruciando la vecchia. Buon aspiccio per tutti!